Buongiorno e buon sabato dalla redazione di Florence Multimedia in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana e sulla FIPILI. Si ricorda che fino all'8 dicembre è chiuso il tratto al chilometro zero della strada provinciale 224 di Marina di Pisa allo svincolo di via Quaglierina a Livorno della FIPILI per lavori dopo una frana avvenuta al chilometro 79 865 proprio della FIPILI. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano Nord e Impruneta in direzione Firenze. Per la viabilità cittadina Firenze previsti restringimenti di carreggiata fino al 31 marzo per lavori in piazza Santo Spirito in via Michelozzi. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!